Ciao, benvenuti nel mio canale e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi facciamo un anello misura unica, lo potete fare con qualsiasi tipo di filo. L'effetto è quello di perla allume, perla allume che abbia attaccato ancora il filo. Avete presente? In realtà noi non salderemo e non faremo nessun tipo saldare, insomma è un po' difficile, ma non faremo nessun tipo di lavoro di questo genere, quindi fingiamo una tecnica. L'anello è molto facile, veramente facilissimo, utilizzate il filo che volete, rimanete nelle misure che ora vi indicherò. Buon divertimento, mi raccomando attivate la campanella per sapere quando il prossimo video sarà online, molto presto, prestissimo. E non dimenticate di sottoscrivere, ovvero di subscribe, iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima e ditemi cosa ne pensate. Mi raccomando, attendo vostre notizie. Ciao, grazie. 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 Grazie.